Screening oncologico essenziale per diagnosi precoci e ripristinare il servizio in città. La prevenzione dei tumori dipende anche dai servizi che un comune fornisce ai propri cittadini. Chi amministra Solorino si impegni per ripristinare lo screening oncologico per la sfera genitale femminile. A dichiararlo è Floriana Lombardo, coordinatrice del Movimento Politica Idea, in relazione alla tutela della salute pubblica da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Germano. In tutta la provincia di Siracusa, a continuo a Lombardo, la carenza di medici e le difficoltà dei presidi e sanitari sono al centro del dibattito politico. Apprendiamo comunque dalle pagine social del sindaco di Solorino che la situazione cittadina sembra essere felice rispetto a quella provinciale. Considerato che lo stesso Germano manifesti sempre grande soddisfazione per la collaborazione con l'ASP e per i risultati raggiunti a livello territoriale, vorremmo avanzare una richiesta che proviene da tanti cittadini e chiedergli di farsene carico. Bisogna ripristinare il servizio di screening oncologico per la sfera genitale femminile. Negli anni la presenza dello screening gratuito ha permesso di prevenire mali incurabili e allo stesso modo di fornire diagnosi ai pazienti. Al Solorino, continua la coordinatrice di idea, lo screening aveva una forte valenza di prevenzione. Grazie a questo servizio è stato possibile avere delle diagnosi precoci in tempi rapidi e soprattutto senza alcuna spesa per i solarinesi. È impensabile che adesso ci si debba spostare nei centri della provincia limitrofi. Auspicchiamo che chi amministra la città si impegni da subito per ripristinare un servizio tanto importante quanto efficace.